Vi starete chiedendo perché vi ho convocati qui stasera. Sappiamo tutti quanto Gibson abbia messo impegno nello scrivere il nostro inedito e di quanto i Banets e Fender abbiano usato il distorsore per poterlo migliorare. Tuttavia, con l'incidente, i nostri strumenti sono stati distrutti, ma io ho trovato una soluzione. Da fare arte ci sono gli strumenti che servono e li ruberemo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.